La mia passione per il cinema nasce quando da bambino guardavo i cartoni animati e pensavo ci fossero dei piccoli omini all'interno che dessero voce a questi lupi, paperi, cani. La cosa che mi ha sempre affascinato nel doppiaggio è il nascondermi all'interno di un corpo e cercare poi totalmente di sparire. Il segreto di un buon doppiaggio è quello di non esistere. La partitura musicale è già scritta. Kevin Spacey ha già tracciato il suo percorso recitativo. Io devo cercare di interpretarlo il più possibile vicino a lui e cercare di essere il più fedele possibile alle sue emozioni, a quello che lui ha costruito. La cosa che mi piace osservare quando doppio ci sono i movimenti delle mani. In quel gesto c'è tutto, c'è la nevrosi, c'è la calma, c'è l'amore. Ci sono tutti gli aggettivi possibili e immaginabili che fanno parte di quel mondo creativo dell'attore. La mia voce è un mezzo, è il suono delle mie emozioni. Io sono Roberto Pedicini. Io faccio firma. Io sono Roberto Pedicini.